Parte ufficialmente oggi, lunedì 27 agosto, la stagione 2018-2019 del Volley Soverato, siamo con il presidente Matozzo, questo pomeriggio raduno al Palascopa con le atlete e il staff tecnico, una squadra praticamente rinnovata quasi per intero, staff tecnico nuovo, un nuovo progetto basato fondamentalmente su giovani giocatrici, quindi forse anche ancora più stuzzicante sotto questo punto di vista perché ci sarà molto da lavorare e da pazientare con questi giovani atleti. Hai detto quasi tutto quello che dovevo dire io, ti ringrazio Pietro, una volta ogni tanto mi anticipo e questo mi fa piacere, evidentemente i nostri pensieri coincidono, oggi iniziamo questo raduno, abbiamo fatto una squadra i cui 11 dodicesimi sono completamente nuovi, l'ha riconfermata Lucrezia Formenti, una nostra mascotte, l'abbiamo così chiamata dell'anno scorso che è rimasta volentieri qui a Soverato, abbiamo tesserato Bruno Napoletano, un allenatore docco di grande esperienza, di categoria Calabrese e questo per me è sicuramente un grande onore e un grande privilegio, abbiamo fatto venire il secondo che è Diego Boschini che viene da trascorsi del settore giovanile, cioè viene nelle zone dove è la palla a volo Conta che è venuto volentieri qui a Soverato, abbiamo tesserato Antonio Marino che è lo scoutman nuovo di questa esperienza e abbiamo anche preso il fisioterapista che è Davide Andreotti perché non potevamo avere Napoletano allenatore e non avere Andreotti come ministro degli esteri qui, sto scherzando, sono cose tutte nuove, quello che è vecchio è l'entusiasmo e la voglia di vincere, questo lo riconfermo, è chiaro, questa squadra nuova con 4-5 elementi di anni 18-20 significa cari signori e cari tifosi dobbiamo avere pazienza perché tutto cresce man mano che ci si allena, non pretendiamo che dalla sera alla mattina questa diventa una squadra a massa campionato, diciamo che è una squadra giovane che sicuramente avrà voglia di mettersi in evidenza, come ha voglia non di mettersi in evidenza ma di tornare ad essere il napoletano, l'allenatore di un tempo perché per un certo periodo è stato all'estero, quindi questa voglia dell'allenatore, questa voglia delle giocatrici, la vecchia voglia e la passione del presidente Matos faranno di quest'anno un mixer che ci fa sicuramente divertire. Sarà un campionato diverso dagli altri anche per il format che è cambiato radicalmente quest'anno rispetto al solito, ci saranno due gironi da nove squadre, poi una fase supplementare dopo i gironi di andate e ritorno classici, quindi insomma sarà anche difficile fare delle valutazioni perché non si possono a questo punto fare i raffronti con i campionati precedenti? No, sicuramente no, ti dico subito che io ho votato contro questi due gironi, io non li ho mai concepiti anche perché se vuoi guardi in giro giocatrici che possono essere all'altezza di un campionato di A2 o di A1 ce ne stanno pochissime perché tu togli le straniere, una straniere la togli dalla A2, due straniere dalla A1, aumenta il numero delle squadre che fanno il campionato di A2, aumenta anche il numero delle squadre di A1, siamo monchi 13 nella A1 e siamo 18 nella A2, dobbiamo fare questi due gironi. Quindi con questa prospettiva le prime cinque squadre poi incontrano le altre cinque squadre dell'altogirone e quindi con le altre squadre con cui hanno giocato non si incontreranno più perché quelle faranno il play out, dopo che si romperanno le corna, quei quattro e le altre quattro non giocheranno più con le prime cinque, questa è un po' un'anomalia. Una volta la prima incontrava l'ottava, voglio dire adesso questo non si verifica più. Di certo questo significa che ogni squadra di ogni girone prima parte bene, prima raggiunge l'obiettivo. È iniziata ufficialmente oggi la stagione del Valle Soverato, coach Bruno Napolitano si parte con tanto entusiasmo, gruppo giovane, rinnovata la squadra ampiamente, rinnovato per intero anche lo staff tecnico, però ci sono anche tanti stimoli per questa nuova stagione del Valle Soverato. Sicuramente stimoli e motivazioni quelli non mancano mai, nel senso che poi soprattutto un gruppo così giovane ovviamente per causa di forze maggiori deve averle di stimoli perché sono tutte ragazze che hanno comunque grandi potenzialità, voglia di fare, voglia di arrivare, quindi è chiaro che come dico sempre in questo momento darsi degli obiettivi o delle medie è un proprio maturo, nel senso che come ho detto altre volte il format del campionato è nuovo, c'è una straniera sola, le ragazze sono molto giovani, quindi alcune cose le scopriremo strade facendo. Sicuramente è importante questo viaggio che andiamo a fare, quindi giorno dopo giorno cercare di capire quello che serve per migliorarsi, perché poi alla fine credo che in questo momento l'unico obiettivo, l'obiettivo importante che dobbiamo darci è quello di migliorarsi con il passare dei giorni per poi essere pronti a quando arriveranno le partite. Ecco, in precedenza analizzavamo questa nuova stagione col Presidente partendo proprio da questo, cioè non si può fare nemmeno, non c'è nemmeno il termine di paragone con i campionati passati perché quest'anno il format è completamente nuovo, sarà un campionato diverso da tutti gli altri, quindi un po' da scoprire anche per voi, quindi sicuramente ci saranno ulteriori stimoli ma ci sarà anche tanto da lavorare perché si giocherà anche spesso. Sì, questo l'ho detto anche prima alle ragazze, cioè noi solitamente, un po' noi tutti allenatori, siamo abituati ad avere dei punti di riferimento, ci creiamo i nostri modelli di lavoro, quest'anno è un po' un anno zero, nel senso che io parlo per quello che mi riguarda il mio modello di lavoro, quest'anno molto probabilmente andrà un po' ritarato, sia perché il format del campionato è nuovo, con questa formula con i due gironi, sia per quello che riguarda l'utilizzo di una strana da sola che cambierà un po' gli equilibri in campo, quindi credo che alla fine è superfluo, prematuro dire chi è favorito, che non è favorito, credo che alla fine vincerà, se questo termine vogliamo ossidare, o meglio farà chi sarà più capace di adattarsi in tempi rapidi alle nuove regole, chiamiamole così. Ed è in qualche misura l'obiettivo che mi porrò io in questa prima fase, cioè adattarmi e adattarci il prima possibile a quelli che sono i nuovi standard che il campionato propone. Fondamentalmente non si è mai allontanato da questa società, adesso però ritorna a pieno regime e di nuovo il medico sociale del volley soverato, il dottor Michele Raffa, oggi presente al raduno della squadra, una nuova avventura vissuta in prima persona, anche se comunque è stato sempre un tifoso del volley soverato, a prescindere dall'impegno o meno. Non c'è dubbio che più che un ritorno è un ritorno, sì, con grande piacere, il Totò Matozzo quest'anno mi ha impregato ulteriormente di venire a fare il medico alla volla e io dopo tanto pensare ho dato l'ok. Ne approfitto anche qui per ringraziare e salutare l'amico e collega Domenico Mammone che mi ha preceduto negli ultimi due anni in maniera egregia direi e quindi lo saluto da questa emittente. A proposito di questa nuova stagione che sta per iniziare, quest'anno sarà un'annata particolare, ci saranno tante partite da disputare, quindi speriamo che l'impegno per voi sia minimo, vorrebbe dire che ci sono tra virgolette pochi infortuni, quindi l'auspicio è questo anche se però bisogna sempre stare lì a monitorare il tutto. Sì, l'augurio è sempre quello, noi già da domani mattina ci mettiamo già subito al lavoro, avranno già loro dei questionari che dovranno riempire in modo che mi faccia un'idea di tutta la loro situazione dal punto di vista sanitario. e poi già il 3, il 4 e il 5 andranno a fare le visite per la certificazione, quindi stiamo lavorando in modo che le cose si svolgano nel più breve tempo possibile e quindi perché no metterle in sesto per le prime partite.